Aria Stile, i music fan, l'Utel Royal di Sanremo, Sala Ranuncolo, l'eccellenza e anche il divertimento, siamo con i gemelli di Guidonia, ciao ragazzi! Ciao a tutti! Allora, io direi di cominciare con quello che è il nostro talismano, perché abbiamo qui uno strumento musicale, che è una vera e propria opera d'arte, lo consegniamo e vediamo appunto come funziona. Ok, devo fare così? Così? Sì, sì, è particolarissimo. Era una noce di cocco. Ma dai, veramente? È bello, è rilassante, rilassa, rilassa questa cosa. Se potrò provare anche ai ragazzi. No, è il suo, la già, vedi, è il fratello che già si ha sequestrato. Dai, dai, c'ho il microfono, è un po' scomodo. Cioè, devo fare questa cosa qui, ma porta bene? Porta bene, porta bene. Bello, è veramente emozionante. È rilassante, è rilassante. Molto bene. Adesso appunto abbiamo Marisol, che è la creatrice di questa opera d'arte, meravigliosa. Grazie. Ah, le due dita. E vedi? Ci sono... Ognuno può scegliere il ritmo che vuole, vedi? Ah, ok, è tipo bellissimo. Beh, ragazzi. È qui. Esattamente straordinario. Eccellenza ed eccellente. Grazie Marisol, grazie mille. Incredibile. Bello. Porta bene, sicuramente. Sicuramente le porta bene. Porta bene, porta bene. Dai, bene, bene, bene. Allora, io direi appunto di parlare di Festival di Sanremo. Sanremo, come dire, è un'esperienza sempre incredibile. Poi noi fuori onda abbiamo anche rimembrato di tanti incontri, di tanti anni fa da queste parti. Oggi siamo qui, chiaramente a veste diversa, ma il Festival negli anni è cresciuto davvero tanto. Beh, sì, siamo cresciuti anche noi, per fortuna. Infatti ci siamo rincontrati dopo un po' di anni qui e il Festival cresce, sì. E questo di quest'anno è veramente molto curioso da seguire, quindi... Dopo è stato bello anche da Fiorello quando avete cantato appunto la canzone scartata da Sanremo. La canzone scartata da Sanremo, poi insomma andatela a ricercare, insomma, sui social. È stata scartata, poi scoprirete perché. Ancora non abbiamo capito perché. Dicono che abbiamo copiato qualcosa, ma non sento nessuna somiglianza, sinceramente. Sì, è vero, è... Beh, Amadeus è un amico, però ci ha escluso. Dobbiamo fare un accenno, com'era? Sì, guarda, ci diceva che assomigliava ad altre canzoni. No, facciamo un accenno così. Amore mio come triste questo mondo Che mi lascia senza fiato così E mentre il mondo cade a pezzi Io mi sposterò Dove non c'è amore Ancora Adesso che farai senza me Con la tua solitudine Prendi questa mano E andiamo lontano Dove non c'è tu E noi ce l'hanno presa. No, non capisco come vai, eh. Perché ha detto Vedi che è piaciuta Assomiglia Assomiglia a un po' di canzoni di Sanremo Hai notato delle somiglianze? Ma sai, le note sono sette È vero, è vero Sai quanti plagi ci sono nella musica? Hai ragione Beh, ma io credo che comunque Questo spirito poi Lo si possa vedere Lo si possa avvertire In quello che poi voi siete E quello che vi si può vedere poi a teatro In quello che è il vostro show Sì, noi portiamo in giro Il teatro Lo spettacolo 3x2 Tra radio e tv Saremo ad Assago Il 20 febbraio Al teatro Ray Power Poi andremo a Gorizia A Trieste Argenta Vicino Ferrara E insomma E poi sicuramente Giocheremo anche un po' Con i nuovi cantanti Che sono usciti adesso Da questo ultimo festival Su Blanco sicuro Già lo prendiamo in giro Blanco Artisticamente Adesso Adesso penso che Ci concentreremo Sul Ma poi Tra l'altro Diciamo che Nell'esperienza di tale Quale show Avete avuto modo Anche di interpretare La storia Della musica italiana E come dire Anche un gruppo Che si è riunito Sul palco di Sanremo E appunto E IPU Abbiamo fatto Anche noi Un umile ricordo Per Stefano Dorazzo Insomma Che purtroppo Ci ha lasciati E diciamo Anche noi Abbiamo avuto L'onore Di reinterpretare Questo grande gruppo Che ha fatto La storia Della musica italiana 50 anni e più Di storia Quindi veramente Siamo onorati Ci sta Ma poi tra l'altro Tale Quale show Vi ha dato Quella visibilità Come dire Nazionale di più E tra l'altro Creando e portando Sì è vero Delle imitazioni Ma anche voi stessi Perché comunque Quella che è anche La vostra essenza artistica Beh sì Infatti C'era comunque L'ironia Abbiamo portato Comunque il nostro divertimento Sul palco Soprattutto nella prima esibizione Anche le Lauro Dieta Berti E Fedez Ormai storiche Ci siamo Insomma divertiti E quindi questo Poi è arrivato Anche a casa Quindi Noi usiamo L'ironia musicale E anche le imitazioni Nello spettacolo Quindi ci siamo trovati Perfettamente In quella situazione Diciamo che appunto Il divertimento È stato incredibile Però voi Comunque avete pubblicato Anche un pezzo inedito Tra l'altro In periodo pandemico Su Mina Su Mina Su Mina Quindi Mina dov'è? Perché ci chiediamo Insomma Ci siamo chiesti Insomma Giustamente Mina Se vuoi Fare anche un pezzo Con noi Chiamaci Perché insomma Noi siamo a disposizione Chiamaci Non risponderemo No No rispondiamo Rispondiamo Ed è bello appunto Anche questo Questo tipo di omaggio Perché lo avete fatto Tra l'altro in piena pandemia In un momento anche difficile E siete riusciti a portare Anche quell'ironia Che in qualche modo Ci ha aiutato Ci ha supportato Nel periodo Avevamo bisogno di quello Avevamo bisogno soprattutto Di credere anche In un messaggio musicale Certo Certo Beh poi la musica È stata protagonista Non solo in quel periodo Abbiamo anche fatto Tanti video a distanza Poi dalle nostre Tre abitazioni Ci siamo poi messi insieme Ci siamo messi insieme Con il montaggio audio E video Insomma facendo Delle cose A distanza C'è anche un brano Con Max Pezzale Abbiamo fatto Sei un mito A cappella Senza musica Dove canta Max Pezzale Da sua parte Max Pezzale Vero E noi lo accompagniamo Insomma A cappella Nella parte vocale Facendo un passo indietro Ricordando quei nostri incontri Di una quindicina d'anni fa In giro Nelle notti sanremesi Mi sarete aspettati Di essere oggi Comunque qua In questa veste Comunque Con anche il riscontro Che siete riusciti ad avere In questi anni Beh Era un piccolo sogno Insomma E lo stiamo Per fortuna Realizzando Con tanta Fatica Tanto impegno Tanta voglia Di rinnovarci Questo Poi Quello che Che arriverà in futuro Insomma Speriamo sempre più in alto Magari Di calcare Proprio il palco Dell'Ariston Sarebbe Adesso siamo in piazza Piazza Colomotese 50 metri L'anno scorso Stavamo sulla nave Quest'anno in piazza Colomotese Ci avviciniamo sempre di più Ci avviciniamo Piano di più Quindi insomma Ci siamo Dai siamo arrivati Ormai Speriamo Speriamo Sarebbe veramente Super meritato Allora io vedo Che c'è una fanciulla Che è sempre Prego prego Vieni vieni Chiamiamola Ciao Salve Prego Tu hai qualcosa da chiedere Io lascio Lascio a te il microfono Ma ci porta anche lei Delle cose da suonare No 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 Niente da suonare Allora Abbiamo una piccola domanda Per ciascuno Volevamo sapere qual era La vostra canzone preferita Della storia del Festival del Cinema Di Sanremo Di Cannes Ah no Sì ma alla fine Il cinema Ha sempre dato Sanremo Sanremo ha avuto anche Come dire Ha dato degli omaggi C'era Benigni Quindi Ci sta sempre La storia della musica Dai La storia di Sanremo Eh bella domanda Bella domanda Ah non so Vabbè diciamo la storia La storia di Sanremo Diciamo Negli anni In questi 73 anni Io dico Alex Ah del cinema Del cinema Adesso Come la mettiamo Aspetta Vuoi che la tagliamo La rifacciamo È bella così No vabbè Io dico A cambiare Alex Baroni Interessante Vediamo Forse è la stessa No Ma sai che Forse sì Perché È un artista Che noi abbiamo amato Tantissimo Alex Baroni Che viene poco ricordato Devo dire la verità E questo è un peccato Perché è una voce straordinaria E credo anche quello Ma diciamo Un po' le canzoni Del Sanremo Degli anni 90 Quelli intorno al 95 96 Quando c'era Zarrillo C'era Giorgia Come saprei Bocelli Insomma Vabbè Quegli anni sono stati Anni d'oro Secondo me Sì io vorrei aggiungere Anche Mia Martini Almeno tu nell'universo Bello Tutte canzoncine così Così è robetta Abbiamo omaggiato Un periodo Quindi qui siamo Al festival Della musica Di Sanremo Ci siamo quasi Piano piano Ci arriviamo Ma sai perché Lei si è confuso Perché se ne parla poco Comunque in questo periodo Quindi Cioè non è che lei Vede anche dei riferimenti Per strada Non c'è scritto Da nessuna parte Ma adesso Nessuno ne parla Gemelli di Guidonia Non è per dire Ma come dire Avere qua quattro uomini Così capisco Perché siamo E' tutto quello E vabbè Ma sai che succede Succede un po' Tutte le donzelle Che incontrano Noi quattro Sono il quarto Ma quando siamo insieme Ma separati no Quando siamo insieme Insieme siamo un gruppo straordinario E' vero? Grazie mille Grazie davvero Grazie Grazie mille Grazie mille